Buongiorno amici, sono qui per presentarvi il mio progetto rivoluzionario. Tutto quello che vedete cambierà. Intanto basta statue prese male. Una bella rinfrescata a tema tropica. Motorizziamo le scale di marmo e tanti saluti a tutti questi romanzi vintage. Vi chiederete, è la disco? Eccola! Strobo multicolor, soffitto ribassato, parquet in plexiglass. E qui pista da bowling e acquario. Cari amici, non è un'utopia. È il disco bowling vuol vedere. Siete uforici? Noi, non è un disco! Siete uforzi!